Eccoci ritrovati signori, un altro episodio Oggi si respira un vento tedesco che levati proprio Abbiamo addirittura un vento tedesco un po' francese che non è il massimo Se vogliamo capire tra le righe Diciamo che abbiamo stroncato sul nascere ogni qual possibilità Per i francesi di prendere lussemburgo Ci abbiamo messo in mezzo dei chilometri di schincazzati che non faranno passare i francesi Detto ciò Io continuo ad essere distrutto dal fatto che abbiamo preso più territorio di quello che probabilmente dovevamo Ci spettava, immagino da questo scenario storico Ma va bene, non sputiamoci sopra Nella puntata di oggi io credo che il mio obiettivo sia quello di arrivare a New Germany E vedere un attimino che cazzo succede Se cambiano dei focus e viene rigirato Insomma vedo un po' come si evolve la situazione Come al solito questo Che mi si para davanti Arriveremo lì, intanto cercherò anche di riformare un po' l'esercito Non credo comunque che andremo più di tanto in là Ma sono aperto a sorprese Quindi lasciamo Lasciamo che la sorpresa mi sorprenda Non ho capito cosa è successo Cioè mentre non guardavo Perché stavo aggiornando delle truppe Che infatti siamo sotto di Owitz Come al solito ovviamente Mi hanno... Si sono rinculati tutto A Champagne Cosa, Moselle C'è la truppa che stanno tornando a casa Ecco questo ci riporta A un German Empire Un po' più Originale Ma questo mi dà veramente al cazzo Perché Me l'ero guadagnato Me l'ero guadagnato Niente, oh Sti francesi Mi hanno fregato Hanno fatto di nuovo una Una francesata E mi hanno fregato Guardate roba Pezzi di merda Vabbè dai Pemmeno abbiamo l'Alsazia E anche la cara Lorena Il Fass Gliacchio Guarda qua Demilitarizzata almeno Quindi Però possono mettere truppe qua Ma noi non ce ne frego cazzo Questo è stato proprio un colpo basso Devo dire Un colpo basso Beh Stanno arrivando le notizie Allora Sponsore navale Sta iniziando a Beer Fruit Cos'è che fa? Abbiamo costruito Con successo L'infrazzura navale Questi sforzi che stiamo facendo Stanno iniziando a dare i loro frutti Beer Fruit Dare frutti I frutti dell'orso Pensavo Bene Bene Tutto molto figo Più 5% tutto In più c'è uno scavo In Wallin Rudolf Virchow Un archeologo di Berlino Ha recentemente Iniziato uno scavo Lo studio Della storia antica Di Slavica E vichinga Nella città di Wallin Che sta a nord Di Stettino Questo potrebbe essersi più Sulla nostra Eredità prussiana Eredità prussiana E tanto Mi sfuggono totalmente Aumentano i 500 Le persone Non ho ben idea Per quale motivo Aumentino Quelle persone Comunque abbiamo Completato la costruzione Questo qua in verità Non serve Passiamo Alle roba sotto Che sono un po' più impellenti E signori Si sta marciando Verso la Militia 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 Wehrmacht Ok E poi Non lo so Penso di Andare a finire Un attimino Queste due o tre Cosine che mancano qua Perché siamo praticamente Arrivati No? Prima di E beh Tanto poi servono Per arrivare qua Perché se non le hai fatte Serve tutto Quindi sì Allora signori Abbiamo fatto passare Allora Andiamo a prendere Andiamo a prendere Il coso Come facciamo andare A questa 4 Eccetera Abbiamo finito fuori tutto Espansione di Infrastrutture Costruzione di fabbricche Costruzione di Fabbricche militari Eccetera Eccetera E ora abbiamo anche Finalmente fatto il Wirtschaftswormacht Quello che è Che ci dà Più tut Cos Per un anno Per tre anni Addirittura In alcuni campi Eccetera Eccetera Quindi siamo fighi Siamo pronti Per andare A New Germany Che Tecnicamente Dovrebbe cambiare Il nostro Il nostro futuro Ora io voglio Semplicemente Chiudere L'ultimo L'ultimo pezzettino Qua che è Support Siler Che è sta qua Poi sta mod qua È piena di Ste regionine Singole Del caccio Una volta fatto Quello Io partirò Marcia alta Per una nuova Germania E da lì vedremo Nel mentre Abbiamo avuto Pur parler Visto che al momento Non è che stia Succedendo Chissà che Andiamo Andiamo A mettere giù Due cose Per l'esercito Che tanto ci siamo È sempre Bello avere Un esercito In forma Spritz Che cavalli Che stiamo ancora Sfruttando Sfruttimoli bene C'è stato un po' Il cambio militare Sono andati via Alcuni vecchi Sono andati alcuni giovani E piano piano Io sto spostando Tutti i template Che ho A quelli Della nuova Fantaria In effetti Poi le truppe Vanno riadestrate Però ogni volta Che cambio un template Perdo un quantitativo Di Owitzer Che fanno spavento Perché noi Mi pronunciamo tanti Ma praticamente C'è un riarmo generale Che fa sì Questi uomini qua Sputtano Tutto In In Owitzer Vediamo Questo cosa dovrebbe essere a posto Manca ancora lui Questi dovranno No Fantaria 2.0 Allora questo qua Può addestrare È questo che non ha Fantaria 2.0 Oh Forse ce l'hanno tutti Questo vuol dire Che posso eliminare I vecchi template Inutili Madonna mia Sì Una pulizia Di template Che tanto Non servono Assolutamente Un cazzo Quelli della nostra Vecchia Cara Riforme Diciamo che Sono molto contento Alla fine Non ho fatto Il template De biciclette Ancora Perché non Mi pareva Venisse sfruttato In maniera adeguata Ma comunque Sia sti cazzo Lo farò un giorno Voglio avere un po' Di biciclette Che vanno in giro Lì e là Quindi questo è tutto Sviluppo Forme Nessuno ha rotto più Il cazzo A governo Anzi guardate Siamo pure Fighi Tantissimo Un 15% L'ho rimosso Nel 73 Un anno Un anno Di quello che è Quindi Per il resto Zero notizie C'è stato un po' Di battibecchi In Africa Per i cazzi loro Il Soccoto Il Soccoto Si sta allargando Mi pare sia successo Anche qualche casino Con la Corea E l'America Ma alla fine Si è risolta Molto velocemente Quindi Intanto la situazione mondiale È questa Con un po' di Con l'Africa Che lasciamo perdere Gli americani Che finalmente Sono contenti Non credo Abbiano ancora Preso il controllo Infatti C'è ancora La Militari Scusate Il distretto militare Military district In faccia Da furbo Ogni tanto A me crepano Le spie A quanto pare Perché me le fa Rinnovare Così a giro Toh vai Su Ma ribeccano Sempre una E ogni tanto Me la fanno girare Direi che ci siamo Comunque Fra un po' Finisco qua E si parte Per la nuova Germania Le decadi passate Sono state faticose Per la Prussia Sia all'interno Della Germania Che fuori Della Germania Ora che abbiamo Stabilito la nostra identità Abbiamo fatto vedere Che noi dominiamo Abbiamo incoglioni enormi Sia militarmente Che politicamente Sembra Abbia poco senso Gente che parla La stessa lingua La stessa cultura E combatte Per le stesse ragioni Sia divisa In tanti piccoli stati O che serva Sotto Un' Entità Disunita Come la storia Ci ha insegnato Un nuovo concetto E' all'orizzonte E la Prussia E' preparata A prenderlo Questo focus Sblocca Il focus Tri tedesco E adesso Tra 70 giorni Andremo a vedere Cosa succede Qua dice In base A come L'impero tedesco E' stato influenzato In questi anni Il nuovo focus Tri sarà O tradizionalista O liberale O socialista Spero sia tradizionalista Immagino abbiamo fatto Tutte le cose tradizionali Chissà come sarebbe Una volta finita la mod Intanto facciamo andare avanti Come sarebbe una volta finita la mod Un governo socialista Cioè che decisioni avrà mai preso Per diventare socialista Forse La deposizione del re L'abdicazione del re Forse è qua E' qua che si fa la differenza Semplicemente Questi due focus Non ne ho idea Ma andiamo a vedere Cosa ci aspetta Haha Non so Non è corretto mezzo Guardando solo che Mi è arrivato questo buff qua Riparazzi nella francia Quanto godo S'attaccano Fino al 73 Tac Signore è stato fatto Ora potrà essere Un'immensa sorpresa Oppure un fastidio generale Porca puttana Oh wow Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Per un cazzo Una roba del genere Ma zero proprio Ma sapete cosa vuol dire Zero proprio Cioè mi sento di fronte Di nuovo Come avere iniziato da zero Ma in un'altra La Kaiserlich Marine Non mi frega un cazzo Ma cazzo Sicuramente mi salterà Nella schiena Qua abbiamo Il Grundersied Il tempo è per noi Di fondare la nuova Germania E decidere la moneta Cioè Decidere i nuovi standard monetari E anche qui Posso scegliere Decisioni storiche E quant'altro Vediamo se me lo dice Non me lo dice Qua è un po' più aperta Alla scelta del giocatore Sono Sono distrutto signori Però abbiamo ancora Un bel po' di tempo Quindi per ora Due to the colonia Mechanic still Bain in works Grande parte di questo brand Non è ancora stato terminato Ok Quindi Siamo arrivati comunque Io direi di andare Per ora Senza fare tante cazzate In giro Di andare con La Germania Sotto Sotto La Bismarck Toffa tutto te Puttana Eva Tieni Lavora Buona fortuna Signori sono Completamente Bluffed Sono in italiano Così È veramente Un sacco Di roba Ma Veramente Un sacco Di roba Bababia Allora Mi sono Mi sono guardato Un pochino Allora Vabbè Qua ho guardato Un pochino Leggermente E ho capito Che a quel livello Qua siamo più o meno Nel 1880 Quindi Queste robe qua Sono molto lente Cioè si parla 1878 Insomma Non è Non è una roba Troppo proprietaria Ma poi Vuole far decidere Se uno stato agrario Ho industrializzato Che cazzo Mi è molto singhiozzo Adesso E direi che la Germania È palesemente Industriale Quindi andremo giù Di qua A un certo punto Sarebbe interessante Partire Partire socialisti No? Tra virgolette E poi Rimanere agrari Poi qua Gunderscheid Qua c'è da Fare una decisione Qua non ho minimamente Guardato Ancora Perché sto voglendo Il resto E non so bene Da che parte Andiamo Ma Immagino che Si capirà E qua Secondo me È la questione Più grossa Decentralized Army Centralized Army Ora ho cercato Online al volo Non ho trovato Niente di che Sinceramente Ho guardato Un attimino Come lo descrivo Abbiamo bisogno Di un'armata Forza Centralizzata Perfettamente E qua Decentralizzata Per mantenere Tradizioni locali Della Germania Ecco qua Questo è quello Che mi ha fatto Spingere Che forse Il lato giusto Questo qua A destra Perché Da come parla Otto von Bismarck Che vuole unificare Tutto Si parla anche Di un'armata Centralizzata E mantenere Tradizioni locali Per far piacere Agli stati del sud Non mi sembra Sia proprio L'obiettivo Che si era Prefissato Poi qua C'è anche Un Spostare Un altro 5% E mandare Il budget Dell'esercito Al 10% Quindi Altri soldi Che vanno lì Di qua Non è che fosse Proprio brutto Brutto Più che altro Qua a sinistra Non si perde Stabilità Mentre qua a destra Ogni cazzo Di decisione Che fai qua Sembra toglierti Stabilità Non tutte Ma questa Parte qua Quella di Portare Le idee Prussiane Io immagino Che sarà Più o meno Questa La direzione Che prenderei Se lo giocassi Ma adesso Voglio andare avanti Ancora Qualche Qualche minuto Giusto per capire Un attimino Come mi Ci mettono E sapete che caccio Questa qua La faccio subito Direttamente Iniziamo a partire Così almeno Già ci cambia Ci toglie La Prussian Victorian Army Ci mette L'armata Industrializzata Che consuma Un po' di più Ma ha solo Che bonus In quell'altro senso Quindi Partiamo anche così E vediamo fra poco Ma direi signori Che siamo proprio In direttura d'arrivo Anche se siamo un po' più corti No ok Direi che siamo arrivati C'è stata anche Un'inondazione Nel Baltico Che ovviamente Andremo a dare una mano Per quello che è Ma non è niente di che Stavo continuando Ad andare avanti A leggermi Un po' i focus Per capire come muovermi Abbiamo finito La riforma Questa qua E che dire signori Allora Questa è la nostra Germania Questo è il nostro German Empire Non dimentichiamoci Minimamente Di Guida Ok Che è Empire Anche per quello E E apposto così Io mi ritengo soddisfatto Siamo arrivati al punto Dove volevo arrivare Tutto sommato E Ci siamo arrivati Con un certo livello Di orgoglio Con Bismarck E quant'altro Andando poi avanti A osservare un attimino I tree Mi sono accorto Mi sono guardato Un pochino qua Ho letto Che qui Dopo il Zusammer Brr Brr C'è scritto Attenzione Da qua in poi Questo ramo Non è finito E manca un sacco Di contenuto Questo E anche E anche questo qua Dice che non è totalmente Finito E manca del contenuto Quindi signori Sta a voi Di nuovo ripropongo Come ho detto L'altra volta Se siete interessati Fatemelo sapere Nei commenti Sbatteteci almeno Se riuscite Perché so che ce lo potete fare Una trentina di like Per farmi vedere Che vi interessa Andare avanti qua Se no io saluto Il nostro grande Otto Che ha i coglioni quadrati Ormai E vi rimando Alla prossima serie Ma se invece Arriviamo ai traguardi Che ci siamo messi E vi interessa Quelli tanto Proviamo ad andare avanti E di stricarci E a vedere Cosa aspetta Cosa deve aspettarsi L'impero tedesco Dal 72 Al 80 90 Non so Fino a che punto Si arriverà Vi saluto Signori Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima